Sono stati rintracciati dai carabinieri di Bari i proprietari di alcuni dei gioielli rubati e rinvenuti la scorsa settimana durante una perquisizione in un'abitazione di un pregiudicato barese nel quartiere Ceglie del Campo. L'area furtiva nascosta in un sacchetto in stoffa era stata scoperta dai militari all'interno di un'intercapedine ricavata dietro il videocitofono dello stabile. Nelle ultime ore, grazie anche al prezioso contributo degli organi di informazione, i carabinieri sono riusciti a risalire ad una ragazza che a distanza di quasi sette anni dal furto subito in casa è tornata in possesso di una collanina a ricordo di un importante evento familiare. Si tratta della collanina con la piastrina riportante l'incisione Lisa a ricordo del battesimo 21 gennaio 1996. La ragazza e i proprietari degli altri gioielli che hanno potuto riappropriarsi dei propri beni hanno mostrato immensa gratitudine nei confronti dei militari e di tutti coloro che hanno fornito un contributo importante nelle attività di ricerca.